bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e oggi torniamo a giocare a paper please ovvero gloria stosca gloria da stosca amici miei allora ragazzoli noi dobbiamo se non sbaglio ripartiamo da un livello che abbiamo fatto l'altro giorno in live lo ripetiamo signori miei perché se non sbaglio quello di impor abbiamo fatto tante belle cacate quindi andiamo al lavoro e non perdiamo tempo perché abbiamo avuto qualche piccolo intoppo con le varie situazioni ok 11 dicembre 1982 vediamo io non mi ricordo sinceramente cosa dobbiamo fare in questo in questo livello import rifiuto da merce importata da stosca su richiesta ministra del commercio della stagirà su questa violazione salve grazie per ieri prego amico mio non ricordo cosa è successo ieri mia mira non è come prima sai la notte mi ubriaco pesantemente non ricordo cosa è successo ieri però va bene rifiuta tutti i viaggiatori provenienti da da import perfetto il lucchetto per sparare questi sono quelli che dobbiamo fare arrestare ok allora io ricordo perfettamente che l'altra volta hanno fatto tante cacate perché non c'era il la motivazione quindi andiamo andiamo ragazzi prossima a stagli prossima salve questo non ha occhi questo è senza occhi questo viene da import perfetto norme di base nessuno deve può entrare da import 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 mi dispiace zio non può entrare nessuno può entrare da import nessuno può entrare da import quindi rifiutiamo il primo motiviamo il secondo non può entrare non mai gli occhi amico mio non agli occhi e non può entrare può avere tutti i documenti a posto ma non agli occhi e non può entrare mi dispiace ciao vattene da un'altra parte il prossimo astag il prossimo ragazzi mi raccomando ciao zia mamma mia che be capelli allora tu vi anche tu da import oh ma che carini ma c'è la fine giusto giusto stavolta che non potete entrare voi da import venite tutti quanti voi da import ma porca di una paletta ambriaca giusto ora che non potete entrare vengono tutti da questo vengono tutti da import no mi dai motivo dai così motivo non lo so che cosa ti ho scritto se ci sei leggerci leggi se no mi dispiace zia te ne torni dove sei venuta il prossimo astag il prossimo ragazzoli allora questa tizia è molto brutta questa da dove viene ehi conosco te al stosca sedi mils che ho lavorato tanti anni con tuo papa con tuo padre eri piccolo furfante eri piccolo furfante ma tu chi sei allora femmina 10 8 83 questa è valle femmina che stiamo a guardare questo 10 11 4 49 kg per 1 76 ma sembra buono il nome lo stesso tamariz tamariz almendra almendra ma raga sembra buona non sono gente non me ricordo se niente ci sarà il dottore tra gli iscritti che mi prenderà parole perché sto facendo ora torno a misca e dico che stai bene qui nel dottore mi pier parole per gli errori che andremo a fare l'area questa è andata bene no nessuna sanzione penso c'è solo sanzioni ciao zio scopo del viaggio vengo per lavoro durata soggiorno rimango un paio di mesi allora viene da colecchia colecchia mappa delle regioni mappa regioni colecchia c'è questa città verdor c'è ok il documento è 8 8 83 il documento è valido e maschio va bene barami vediamo questo 17 12 82 pollici corti capelli lisci 85 kg per 1 e 79 ci siamo va bene vediamo questo a rasci barami a rasci barami ok 4 183 due mesi lavoro di uv 8 g di uv 8 g 85 h a 5 ok questo è pure buono controlliamo questo a rasci va 18 83 odonto teatria due mesi per lavoro i simboli sembrerebbero buoni controlliamo un attimino i simboli e raga documenti foglio di lavoro dove stai fuori lavoro quello col martello va bene controlliamo l'altro io sono lento raga mappa delle regioni no che cazzo la faccio mappa delle regioni permesso d'entrata si va bene braga sembra tutto in ordine non lo so poi questo è mio è questo via non creare problemi boh penso sia andato bene raga io purtroppo sono lento nel nel leggere documenti mamma mia che brutta statizia da dove viene non è che sei questa per caso no vero non è che sei questa nessuna correlazione no non sei questa allora 21 9 84 maschio sei maschio zio ma sicuro che sia maschio non sembreresti per niente un maschio dato che incidenti va bene non faccio altre domande da colecchia da gristin ovest mappa delle regioni colecchia gristin ovest va bene questa va bene controlliamo questo perché viene questa mi trasferisco qui ok 24 12 82 capelli ricci e corti non mi sembrano tanto ricci capelli zia capelli ricci dati coincidenti boh lo dice lui è 83 kg per 1 76 va bene milos dov'è milos milos bad no il cognome diverso zio il cognome diverso dammi le impronte mezz'ora controlla i documenti e poi questo motivo nome cambiato e recente va bene dammi le impronte zio no il documento voglio le impronte nessun alias noto mi dispiace zio mi dispiace non puoi entrare nessun alias noto 1 e 2 motivo ciao 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 tanti saluti a casa a te a famiglia fai quella che vuoi pia di tutte cose vattene ciao non puoi stacqua mi dispiace il prossimo basta che il prossimo non stiamo facendo nessun errore fino alla raga tanta roba mamma mia che carina questa molto bene ben ben vestita ben educata 10 12 384 femmina da gristin est mappa alle regioni dalla stosca c'è a stosca 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 gristin est ok ok femmina si mi sembra femmina i capelli su diversi vero zia ma sei te concorrenza e zia non sei tanto te non il tuo aspetto è cambiato ho fatto operazione impronte dammi le tue impronte zia ne avrete subito l'ulicata antonia allora le impronte impronte non so questa raga le impronte non so questa mi dispiace zia non puoi entrare hai fatto operazione recente se l'hanno fatta male zia te l'hanno fatta parecchio male non sei te mi dispiace ciao tante belle cose saluti a casa e alla tua famiglia non puoi entrare mi dispiace è prossima basta che il prossimo dai sta andando bene raga sta andando bene ma uno da restare non c'è ok è tornato sono di nuovo qui ho tutto sistemato ora ora posso prendere nei miei modi 17 12 82 calvo va bene 59 kg zio vero me lo ricordo lui c'è qualcosa che non va nessuna correlazione scusa mi ho sbagliato sbagliato fa così e così incongrenza rilevata e mi dispiace zio tuo peso è diverso e triste storia non mi interessa mia moglie cura cattiva mi dispiace perquisisce questo era già qualcosa ricordo che ciao la bomba o qualche altra cosa quindi andiamo a prendere subito norme di base perché ma questo c'è qualcosa che non va ma questo c'è qualcosa che non va eccolo qua zio allora non puoi portare questi armi sono con sono vietati cosa essere questo è droga a droga è una piccola attività qui da spicciati a parlare zio spicci da parlare che te devo far restare 10 crediti io do 10 crediti per piccolo timbro e vabbè dai tanto il primo il primo è gratis zio il primo è gratis approvato dai vai a spacciare amico mio vai spacciare che è il guadagno del pane zio guadagno del pane mi devi dare i soldi però mi devi dare i soldi ah bravo 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 zio bravo di lui è mio amico dai lui è mio amico me ne frego tanto la prima munizione è gratis la prima munizione gratis da chi se ne frega si o che bel buffo che c'è il tizio che bel buffo viene da impor eccolo mi mancava uno da impor e da sai che non che non ce lo portavano da impor zio ok vai interroga non puoi venire mi dispiace mi dispiace per te non puoi entrare questo te lo metto di qua questo te lo metto di qua e questo te lo restituisco bello mi dispiace per tutti i documenti che mi ha portato ma non servono la cippa il prossimo dai 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 zio dai zio dai una da restare non ce l'ho mamma mia che brutto cappuccio che c'ha questo questo viene dal scopo del viaggio transito d'arstosca durata soggiorno rimango un paio di giorni in città allora occhiali dove stanno gli occhiali zi dove stanno gli occhiali zi te sei persi per strada te l'hanno fregato mentre stai a fila 22 11 83 dai di impronte nessun alias le impronte sono buone le impronte sono giuste va bene le impronte sono giuste occhiali 78 kg per 1 e 79 stanno andando via tutti e raga va bene questo boh 15 12 82 15 12 facciamolo con calma tanto non cambia nulla william napier william napier 6 td 9 b w 5 q w 1 va bene si transita per un paio di giorni fai tu non mi interessa andando non me lo pagano questa raga via ciao ciao via di tutti i documenti e sparisci non crea problemi ciao 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 e questa è andata ragazzoli prepariamoci per un'altra giornata prepariamoci per un'altra giornata sopita bisogna di medicina ai 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 siamo a zero preciso raga siamo a zero preciso medicina e figlio riscaldamento cibo allora mio figlio ha bisogno di cibo tutti stanno fame fame fanno fame quindi riscaldamento lo possiamo leva diamo il cibo e le medicina a figlio e ci teniamo 10 crediti raga così presto cosa è successo sospensioni sospese le sospensioni a import ok 12 dicembre 1982 raga 12 dicembre 1982 aspetta un attimo imposta import della rinunciata alla sua ingiusta politica qualcuno sta avendo verso il caso autoraga e ora concesso l'entrata di cittadini e prevista nuova visita di realità circondanti circoscrizionale di creste est nella giornata odierna gloria stosca che carino non sto pietro ci ha fatto un disegno che però metteremo qua di lato salve salve è troppo presto per tornare qui puzza di questo presidio di da nausea cos'altro schifo appeso questi mondi sono solo targhe ufficiali ora discutiamo paga per violazione non si ripeterà almeno due prestazioni non sono terrificanti ha ricevuto 11 ammonimenti non peggiorare ancora ora una vecchia amica in arrivo approva sua entrata suo nome scea il sosca non voglio sapere i problemi da lei gloria stosca scea scea deve entrare scea deve entrare uffa le mie targhe erano bellissime per il prossimo stanno mi hanno già fatto già le scatole già di prima mattina raga già di prima mattina non già fatto già le scatole allora prima ce l'abbiamo signori miei prima ce l'abbiamo sì 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 parla parla nessuna correlazione come nessuna correlazione ma dai ma era lui ma è lui è lui 23 12 82 capelli scuri 86 kg per 170 non vedo più però l'altezza 176 va bene capelli scuri viene da l'obrishtan mappa le regioni obrishtan maschio lord and ads va bene 10 12 82 10 12 10 e ancora io ci sto ancora e io sto ancora a pensarci incongrenza rilevata interroga documento è scaduto deve essere errore di stampa se anche il mio non ristamba guarda qua guarda qua guarda che bel errore di stampa anche il mio tieni uno tieni due tieni tre ciao alla prossima alla prossima e prossima basta che il prossimo smilio mi basta che il prossimo ricordate voi danno chi l'era arrivo da antegreria a un bersaglio per persone importanti gente d'arzo scava affermato nome khaled istom khaled istom aspettate modo scrivere istom va bene non dimenticarlo va bene mamma mia troppe persone da tenere che è sta cosa apri non toccare polvere chiudi allinea la polvere sul passaporto premi forte per fissare ok ok che cosa carina khaled istom da dove veniva questo d'anticheria boh documenti prego irene visita durata soggiorno vengo poche settimane ok 23 12 questo è valido questo è valido questo è valido 11 femmina va bene e ricercata no corti ondurati 56 kg per 1,63 ci può stare ma all'altezza ci stiamo ci sta all'altezza dati coincidenti va bene k quando sta il documento k m k 9 di k f p e b ok visita perché veniva questa poche settimane adesso giorno poche settimane per visita e boh mi sembra tutto regolare raga non lo so mi sono un attimino confuso lo facciamo entrare la facciamo entrare e dai via ciao non creare problemi e prossima tutto bene tutto bene tutto bene a posto che questo documenti prego scopo del viaggio boni johnson immigrazione immigrazione allora immigrazione 183 17 12 82 e questo è valido maschio pollice fronte alta 76 kg per 1,77 va bene jonas bonin jonas bonin w n 37 1 d j 9 t immigrazione per sempre 183 sembra tutto in regola raga maschio e maschio ciao zio vai e non creare problemi via dai 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 e prossima forse se faccio così sono più veloce raga oh buongiorno signora pass internazionale scuola di viaggio seguo prista importante alina alina non posso dire forse pochi giorni poche settimane alina internazionale pass internazionale alina con kunova con kunova 17 84 boh non so raga questa la posso far passare non lo so forse manca qualcosa manca 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 il foglio di lavoro dati coincidenti vabbè allora la facciamo passare raga non lo so non lo so non lo so il dottore sicuramente mi riprenderà tantissimo però va bene vai zia vai a fare le tue belle interviste tanta inefficienza è incredibile permesso d'entrata mancante identificativo mancante l'ho chiesto il permesso d'entrata ma non ha già scopo del viaggio ryan no visito parenti il resto poche settimane manca l'identificativo manca l'identificativo sta l'identificativo dove l'identificativo zi l'identificativo scusa ecco qui a ecco zio meno male meno male perché già testa a caccia 89 kg 18 12 per un 86 va bene barba va bene e 24 12 82 documento è valido m g 3 k g m k h 7 l o ryan surgenor surgenor ryan sembrerebbe per regola questo va zio via non crea problemi stiamo facendo basta tutti praticamente ne stiamo a cercare due importanti che non sanno dove siano mamma mia che brutta questa vengo per lavoro qui se vengo un anno si zia poi veni quanto vuoi mando sta il documento dove sta il passaporto cos'è passaporto visto d'entrata non c'è passaporto non ti posso far entrare a prescindere senza passaporto non ti posso far entrare a prescindere mi dispiace ciao 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 via di tutta roba te buona ciao ciao e prossima senza passaporto non ti posso far entrare mi dispiace documenti prego scopo del viaggio istom khaled khaled e istom vengo per metà aspettate che cazzo devo fai aspettate fermo apri così così voglio l'ho messo gliel'ho messo 23 12 boh facciamolo passare tanto lo ammazziamo tanto lo ammazziamo lo ammazziamo pesantemente a questo e prossima no scusami e prossima poteva entrare poteva entrare non abbiamo preso nessun ammonimento che cosa carina che è successo ops si è sentito male il tizio ops il tizio si è sentito male cosa sarà successo cosa sarà successo ops il tizio si è sentito male raga ma boh non lo so noi non c'entriamo niente non che sarà successo boh boh la guardia sta avvenendo da noi ha fatto spallucce la guardia ha fatto spallucce che sta a fa no è morta pure la guardia che cazzo ora sta succedendo stanno a morire tutti è morta anche la guardia e mi sa che sta succedendo qualcosa di molto strano giornale interrotta per problemi di sicurezza si sta si è stato multato per decorazioni non utilizzate sul muro è arrivato un pacchetto mi era disponibile segnale mamma mia siamo a zero ah no abbiamo ancora 5 dollari 5 dollari ezi ci ha donato 20 dollari meno male meno male signori miei ci hanno multato di quanto di 20 dollari badai ma non esiste ma non esiste raga comunque ragazzo vi detto questo vi ringrazio per partecipato a questo video per aver visto questo video per i like per i commenti per i suggerimenti noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale per un nuovo contenuto bella raga ciao